Pensare che attraverso un amicchietto si trovasse il posto di lavoro gli italiani. Però permettimi di essere ancora più polemico Mario su questo. Tutte le persone che tu hai fatto vedere, tutte, e sono tutte storie straordinarie perché sono tutte una diversa dall'altra. L'unico che tu non tratti è il gioco legale perché io sono affezionato al gioco legale, che sono 160.000 persone a casa che valgono 14 miliardi di fatturato, ma insieme a loro tutte le persone che ha fatto vedere, non è la prima puntata, sarei a che cosa devono tutto quanto? Al fatto che la politica non ce l'ho come il professor Galli di cui io seguo soprattutto il consiglio di fare i tamponi, ma tutta la politica per due mesi e mezzo e tre mesi e mezzo ci ha fatto sì che noi si avesse una paura nera.